Gregoraci, lo sfogo dopo la separazione da Breatore, Elisabetta ha rotto il silenzio dopo la clamorosa separazione dal suo Flavio, ha scelto il suo profilo Instagram, in cui ha twittato, più forte è il carattere, più fragile è l'anima, la durezza apparente è la corazza di chi ci ha messo troppo cuore, e non vuole soffrire più, parole che hanno però attirato commenti molto duri, ovviamente tutti con riferimento all'autocompenso del famoso accordo con l'imprenditore, ma la showgirl non c'è cascata ed è replicato sul suo profilo con un tenero e lievemente triste messaggio di auguri, auguro di cuore ad ognuno di voi un 2018 strepitoso, felice e pieno di soddisfazioni, carico di positività, gioia e salute con le persone che vi amano, vi vogliono bene, e vi apprezzano, ricordatevi che ognuno di noi non è mai solo, di fianco a noi ci sono persone vere e sincere, nella vita si cade e ci si riazza sempre, basta crederci fino in fondo senza mollare mai, vi abbraccio tutti, auguri 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 di cuore dalla vostra Eli.